Si è spento all'età di 90 anni a Reggio Calabria e dopo una lunga malattia il senatore Girolamo Tripodi, conosciuto da tutti come Mommo, a darne notizia il figlio Michelangelo, ex assessore regionale nell'esecutivo Loiero. Grande il cordoio tra i cittadini per la morte dell'ex senatore, una vera e propria istituzione della sinistra e dell'ex PC a Polistena, sua città natale dove è stato sindaco per oltre 30 anni, ma anche un chiaro punto di riferimento per l'area comunista a livello nazionale e in Calabria. Un uomo del popolo al servizio del popolo è la definizione che emerge tra i commenti dei cittadini, ma anche dagli avversari politici che ne ricordano le virtù di politico illuminato, fermo oppositore dell'andrangheta e del malaffare, unitamente alla battaglia epocale per l'emancipazione per i diritti dei braccianti agricoli della piana di Gioia Tauro negli anni 60, anche perché l'ex parlamentare era egli stesso un bracciante. Proprio in quegli anni inizia la sua carriera sindacale nella Feder Braccianti, in parallela alla sua adesione al PC, cittadino di cui è stato più volte segretario, passando poi per la direzione provinciale, regionale e nazionale del partito. Eletto la prima volta in Parlamento nel 1968 con il PC, vi rimase per ben cinque legislature, tre volte da deputato e due da senatore. Tra gli incarichi istituzionali ricoperti ricordiamo quelle di membro delle commissioni trasporti, marina mercantile, poste e telecomunicazioni, interni, affari costituzionali, ambiente, territorio e lavori pubblici. È stato anche segretario della commissione bicamerale di inchiesta antimafia. Nel 1956 entra in consiglio comunale a Polistena nei banchi dell'opposizione, ma nel 1970 diventa sindaco rimanendo in carica per un trentennio fino al 2005. Storica anche la sua battaglia negli anni Ottanta contro la costituenda centrale a carbone e la sua testimonianza antimafia al cosiddetto processo ai Sessanta sul finire degli anni Settanta. L'ex senatore ha sempre fatto parte della direzione nazionale del Comitato Politico Nazionale prima del PC e poi del Partito della Rifondazione Comunista finché nel 1998 è stato tra i fondatori del Partito dei Comunisti italiani con Cossutta e di Liberto e componente del Comitato centrale dello stesso partito.